In un video che ho pubblicato ho parlato di una mancanza di un capitolo di Capcom, ovvero il remake del Resident Evil 1, però questa volta voglio parlarvi di Resident Evil 9, che ancora deve uscire, che dopo Resident Evil Village mi ha dato un hype perché voglio sapere come finire, anche se mi dà meno hype perché il personaggio che prima era Ethan, ora sarà la figlia di Ethan, mi dà un po' meno, diciamo, interesse. Perché? Perché essendo abituato a un determinato personaggio in cui controlli, vabbè, che poi Resident Evil dal 7 fino all'8, diciamo, era in prima persona quindi non sapevi chi è, vabbè, poi durante la storia, eccetera, vabbè. Però, adesso che siamo alla figlia, che la figlia ha dei superpoteri, perché sicuramente c'è stato il DLC di Resident Evil Village che a quanto pare la figlia ha dei superpoteri, quindi sarà molto interessante, io spero vivamente che Resident Evil 9 abbia almeno due cose, una trama veramente interessante e soprattutto dei personaggi doc della serie di Resident Evil. Dai, fate qualcosa in più, dai, fate qualcosa. E annunciatelo, per l'amor di Dio.